Salve a tutti! Scusate la lunga assenza su YouTube, ma in questo periodo ho un esame molto grosso da preparare, e non ho mai tempo per registrare video. Questo ho deciso di pubblicarlo oggi solo perché ora ho mal di testa e non riesco a fare niente, ma sarà un'eccezione per un mese a questa parte, visto che ho ancora molto da studiare. In ogni caso, le riprese di questo tutorial le avevo già fatte un mese fa quindi oggi mi è toccato solo montare tutto e aggiungere la voce. Questo sarà un video breve di aggiornamento in cui mostrerò altri due modi di griffare con i pistoni che ho elaborato negli ultimi tempi. Questa tecnica, come alcuni di voi sul web mi hanno suggerito dopo aver visto lo scorso tutorial, consente di spingere blocchi di TNT dentro le zone protette e farli detonare. A proposito, l'ultimo tutorial che ho pubblicato ha superato il migliaia di visualizzazioni e l'altro ci si sta avvicinando. Inoltre il mio canale sta raggiungendo i 50 iscritti e lo stesso video è stato apprezzato anche sul sito del team AVO. Vi ringrazio a tutti e spero che anche i prossimi video siano di vostro gradimento. Tornando alla tecnica, per far detonare i blocchi di TNT useremo la leda che apre la porta della casa Versaglio. Per raggiungerla col nostro pistone ho costruito questa piattaforma, ora spingerò un blocco di TNT proprio sopra il blocco con la leda, così quando la azionerò la innescherà. Inoltre piazzerò altri blocchi intorno per ampliare l'area di danno. Una buona idea per risparmiare blocchi è intervallare uno, due blocchi di TNT con altri di pietra o terra. L'effetto sarà lo stesso. Se non avete inneschi come le leve o altri meccanismi di redstone, potete sempre fare una fila di blocchi di TNT fino al limite della zona protetta e innescarli tutti a catena, ma vi costerà di più. Quindi se potete sfruttate i meccanismi di redstone all'interno dell'area. Questa tecnica ha l'un vantaggio rispetto ai cannoni a TNT di essere molto meno costosa. Ecco il blocco piazzato sul detonatore. Ora vi taglio il posizionamento degli altri blocchi e passo subito al botto. Tutto pronto. Andiamo ad azionare la leda. Via di qui. Andiamo a goderci lo spettacolo da lontano. Che ve ne pare? Devastante no. L'altra cosa divertente poi è che l'esplosione distrugge tutti i blocchi che avete utilizzato per entrare nella zona protetta. L'admin si impiccherà di sicuro a una simile visione, non capendo come cazzo abbiate fatto a demolirli le costruzioni. Questa è una variante della tecnica flood illustrata negli scorsi tutorial, progettata per essere meno costosa e più rapida da eseguire. Concettualmente è molto semplice. Se una zona protetta ha al suo interno una fontana di lava o acqua, spingendo dei blocchi coi pistoni in modo da ostacolare il flusso dei liquidi, è possibile farli traboccare tutto intorno. Ovviamente se lava e acqua si mischiano potrete anche fare una pseudotecnica della pietrificazione. Inoltre la lava può dare fuoco alle strutture circostanti. Ma su quest'ultimo punto c'è un problema. Ho notato che la ultima versione di Bukit disabilita il fuoco nelle zone protette di default. La terza struttura che avete visto in questo tutorial infatti l'avevo costruita pensando di usare dei blocchi infiammabili per far uscire la lava imprigionata in una colonna, ma non ha funzionato. Purtroppo non è tutto rosa e fiori ragazzi, ecco cosa mi è successo tentando di griffare un server con le anti-bukit ultimamente. In questo server di griffing, e sottolineo di griffing, lava, tnt e fuoco erano disabilitati e c'era un'intera città protetta oltre allo spam. Sembra incredibile ma è così. Io non so cosa passa per la testa degli addomin a volte, ho quindi tentato di usare l'anti-bukit flood con l'acqua, ma guardate cosa è successo. Hanno bloccato i pistoni. Dopo aver visto questo ho guardato le novità dei Bukit 1.2.5 e ho notato una nuova opzione. Blocco delle entità. In pratica d'ora in poi per gli addomin sarà permesso bloccare l'ingresso in una zona protetta tutte le cose animate in Minecraft. Non solo i blocchi dei pistoni, ma anche tnt sparata dai cannoni, sabbia che cade, frecce, barche, eccetera eccetera eccetera. Purtroppo Capobastone ha ragione, anche se fossi un costruttore mi incazzerei non poco a non poter nemmeno entrare o sparare frecce in una determinata zona del gioco con i mob pronti a farmi il culo. State uccidendo Minecraft. Ma noi griffer non ci arrenderemo. Ho già altre idee per farvi pentire di aver messo queste protezioni inutili e scassa marroni. I costruttori se ne andranno dalla noia, ma noi griffer resisteremo. Più ostacoli ci mettete e più sarà divertente vedervi cristonare quando vi pianteremo casini sui vostri server. E poi ci saranno sempre i nadi che non useranno queste opzioni, quindi tremate. Il divertimento per noi sarà garantito ancora per molto tempo. Alla prossima miei cari costruttori. Alla prossima.